Buon pomeriggio a tutti, oggi è giovedì 21 settembre, sono le 16.54 e finalmente torniamo a parlare di oro. Mi dispiace ma sto aumentando tanto il ritmo del trading grazie a questo nuovo tecnica 2 e quindi sto diluendo le analisi, non sono riuscito a fare come di consueto. Il mio suggerimento però come di consueto è uno, ovvero di andare a seguire anche House of Trading dove ho dato un target per un'operazione rapida che è andato a buon fine. Anche se l'avvertenza è sempre questa, questo genere di operazioni sono molto più rischiose di quelle che ovviamente facciamo nel gruppo premium per un semplice fatto. Quale? Il fatto è che do un'operazione a un'ora e mezza magari dall'inizio della trasmissione stessa, a due ore dall'inizio della trasmissione stessa e quindi non vedo due ore di candele. Capite che può cambiare qualsiasi cosa, infatti anche per il Nasdaq ho dovuto cambiare in corsa quello che stavo facendo, cambiare i target e tutto il resto. In ogni caso rimane, a parte le facce congelate che faccio, il trade è andato a buon fine con tutti i limiti che, vi ripeto, sono estremamente grossi per un metodo statistico-matematico non discrezionale come l'analisi evoluta ma anche registrato. Per cui il suggerimento è, oltre a seguire, iscrivervi al canale di investimenti Paribas House of Trading per avere tutte le dirette e poter vedere sempre anche dei colleghi che si occupano di trading, che utilizzano metodi diversi, andare a farsi il corso gratuito sul mio canale, corso di cicli base fatto in 7 video lezioni che per ora rimangono qui gratuite, fatto da oltre 29.000 persone, su quante del canale, al canale iscritte oltre 16.000, quindi quasi il doppio delle persone hanno fatto il corso, chiedetevi perché. Ritornando a noi, la situazione dell'oro si è fatta parecchio complicata, hanno iniziato a spuntare molti più raccordi inversi e raccordi del solito, ci sono state delle belle finte, ma avete visto che nonostante il rischio della Fed e di tutto il resto, basta rimanere fuori e aspettare che la Fed comunichi quello che deve fare, il FOM che faccia quello che deve fare, che i tassi arrivino e poi si può riprendere senza rischi a controllare se tutto è stato fatto in maniera corretta. Mi aspettavo salita, nonostante questo raccordo inverso che ci ha fatto scendere, non è stato eseguito lo stop loss ben piazzato e siamo andati a target. Casualmente, dopo essere andati a target e aver avuto la condizione necessaria e sufficiente per chiudere almeno un settimanale inverso, che cosa è successo? Siamo sprofondati. Sprofondati tra l'altro andando a toccare diversi swing di inverso che ovviamente, di cui parlerò in maniera più approfondita ovviamente nel gruppo premium, per cui attenzione perché è partito un bel segnale. A questo punto, se andiamo a vedere l'inverso, siamo arrivati a 28 barre, quindi qui proprio dove avevo messo un target per un possibile t2 che però mi spaventava un po'. Noi siamo praticamente andati a sfiorarlo e poi adesso abbiamo fatto una candela rossa e questa candela rossa mi mette un po' in allerta fino a un certo punto, attenzione, perché un quinto t-3, un quinto ciclo giornaliero, se vuole partire deve fare almeno altre due candele da 45 minuti sopra questo minimo. È vero che sopra significa così, ok? Ecco, le ho fatte sopra e poi però si può scendere, ok? Quindi per operare nel breve voglio mettermi un bel allarme sotto, al minimo a 1933,1 dollari. 1933,1 dollari, ok? In cui, per cui, scusate, se arriverò a fare più di 5 barre sopra questo minimo, magari facessi ancora una capatina in quest'area qua, ok? Attorno ai 1946,4, a quel punto, se poi invertissi la tendenza e tornassi sotto questo minimo a 1933,10, prima della 23esima, 24esima barra, ma diciamo attorno anche solo alla 20esima, alle 6 della prossima mattina, in realtà speriamo tanto prima, a me non dispiacerebbe, ma io non conto niente, magari anche alle 22.30, ma fa lo stesso, basta che ci siano un tot di barre sopra questo massimo, magari il superamento di quell'area e poi ci sia la violazione soprattutto di questo minimo, allora valuterò uno short. Allora, saprò che qui non sia ancora chiuso il nostro giornaliero primo T-3 inverso, perché siamo a 28 barre sul massimo tra l'altro 44, quindi è prematuro per parlare, possono mettersi a lateralizzare, fare un guizzo e poi iniziare a scendere, ok? E direi che a parte il breve periodo ci interessa ragionare di medio periodo, d'accordo? Perché? Perché sono ormai 227 giorni che saliamo, quindi abbiamo conclamata la partenza di un T5 annuale. Il T5 annuale è partito da questo minimo, può aver chiuso su questo minimo a 203 barre, quindi oltre le 192 minime? Teoricamente sì, ok? Abbiamo anche un T2 di tempo puro che ce lo farebbe chiudere. Nella realtà, difatti, però, la spinta da questo minimo, da cui è partito un mensile, è stata talmente blanda e non abbiamo superato swing particolari che, per ora, direi che, dato che neanche questo swing e questo massimo è stato superato da questo successivo e abbiamo massimi decrescenti, possiamo ancora aspettarci serenamente una chiusura entro tutti i giorni che vorrà. Come detto, siamo a 227, possiamo andare a 256 e fino a 336. Ok? Soffermiamoci su quest'ultima parte. Abbiamo un T3, un ciclo trimestrale, perché stiamo viaggiando a trimestrali. Primo trimestrale con un raccordo tra trimestrali di grado di 3 gradi inferiori, ovvero T. Secondo trimestrale. Terzo trimestrale. Ok? Da qui può essere anche partito un semestrale. Ok? Un T più 4, quindi tutto. Siamo ancora serenamente in balo su determinate cose. Andiamo ad osservare il nostro mensile, l'ultimo mensile. Il secondo mensile è arrivato a 24 barre. Per chiudere 24 barre, dovrebbe chiudere con una candela rossa, eccetera, eccetera. Ha già la condizione per la chiusura di solo un mensile? Sì. Però se è il secondo mensile di questo trimestrale, noi abbiamo bisogno di una condizione più alta per la chiusura del trimestrale stesso. E se vogliamo chiudere un annuale, allora, per chiudere il trimestrale ci basta tornare sotto questo minimo a 1921,7. Se vogliamo chiudere l'annuale, dobbiamo tornare qui sotto a 1913,6 come minimo e quindi rimangiarci praticamente tutto il T più 3, avere un T più 3 ribassista. In questo momento la forma dei cicli ci dice che rialzista non è. Il massimo l'ha fatto nella prima parte. Se vi ricordate le vecchie dispense, la forma di un ciclo vi dice tante cose, ok? Che possono essere poi smentite o meno, ma per ora ci dicono che questo è un ciclo tendenzialmente neutro e a rischio di diventare bassista. Che cos'è che ci tiene su? Ci tiene su la media mobile a 200 periodi in blu. Se iniziamo a perderla, ecco perché ho messo l'allarme sotto il minimo di oggi, e se iniziamo a fare chiusure sotto, i target li sappiamo, ok? 1921,7 per chiudere come minimo il trimestrale, il trimestrale ma anche l'annuale nella realtà è di fatti, e se dovesse andare in estensione ovviamente anche i 1900 dollari, i 1900,6. Quindi l'analisi potrebbe chiudersi qui, ok? Vi ho dato tutto, vi ho raccontato le cose, ma che cosa succede? Manca un pezzo. Rispetto alla tecnica che studiari tanti anni fa, oltre dieci anni fa, del migliorino, manca la parte relativa all'inverso. L'inverso sono i cicli che partono di massimi, sviluppano minimi e tornano su massimi, ovvero il contrario dei cicli normali. Fanno delle U sui nostri grafici. Qui abbiamo avuto una prima U, ovvero un primo ciclo di che grado? Inverso? Semplice, misuriamo e guardiamo la nostra leggenda. 62 barre? Sì, finisce in un trimestrale. Primo trimestrale inverso. Funzionano bene i trimestrali sul loro, non è male come cosa, giusto? Ve la faccio notare perché da un po' che volevo dire, ma me lo dimentico sempre. Poi il raccordo di inverso, tra trimestrali perfetto di grado t, settimanale. Qui abbiamo potenzialmente chiuso, abbiamo chiuso a 24 barre, qua no, perché la candela è stata rossa. Qui potremmo persino aver chiuso a 36 barre. tutto un T più 3. Tutto un T più 2 inverso, ok? Tutto un T più 2 inverso. Abbiamo ben più di un T meno 1 inverso ribassista, ovvero che sale, che fa il baffo. Se qui avessimo chiuso, con tutte le condizioni, il primo mensile inverso a 36 barre e ancora in realtà 7 barre, può ancora girarsi, fare un rimbalzo e poi scendere. Ma se avessimo chiuso qua il nostro mensile inverso, il prossimo che parte ci spara sì giù e ci fa arrivare serenamente i target che è violato. Che su un indi minimo abbiamo violato da questo massimo, nel gruppo premium lo racconterò. Quindi, ritornando a noi, abbiamo un indice, la condizione per rimbalzare. Sulla media mobile possiamo rimbalzare. Se dovessimo ancora andare a chiudere oltre questo massimo del 20 di settembre il nostro mensile inverso, possiamo andare a rimbalzare. Ma se non rimbalziamo perché da qui è partito un mensile inverso, andiamo giù. Andiamo pesantemente giù. Per questo motivo che cosa facciamo adesso? In quale delle due situazioni siamo? Semplice. Quando sono in dubbio, ci sono due cose che posso fare. Uno, come diceva il Gann, non fare assolutamente niente. Aspetto, vedo in che situazione sono. Intanto non è difficile quella cosa. Preferisco però, sugli strumenti per farlo, farvi vedere che cosa si può fare. Iniziamo con un ritracciamento semplicissimo di Fibonacci. Vediamo quanto si rimbalza già sulla chiusura del primo T-3 inverso. Se si rimbalzasse oltre il 50% e si tornasse persino sopra la media mobile o nel giro della media mobile a 50 periodi, interessante, ho più probabilità di poter continuare ancora a salire, vincolare il T inverso e andare a chiudere il mensile inverso, che però può essersi chiuso come condizione necessaria e sufficiente qui. Che swing abbiamo violato? Perché io lo so, è il gruppo premium, tra poco lo saprà. Se invece non avessimo un rimbalzo particolare, superassimo a malapena questa media mobile a 200 periodi, andassimo poi pian piano in Death Cross, capite che ci basta rimanere per 5 barre da 45 minuti sopra questo minimo, sopra il minimo delle 14.15, la candela a 45 minuti delle 14.15 e noi siamo già alla terza candela, che poi può fare tutto quello che vuole per rimanere sempre, come detto, sopra il 1933,1, può lateralizzare, può fare un rimbalzo più ampio, ma può iniziare a scendere. Se avremo appunto poca salita e ritornassimo a scendere, ci vincolassimo prima della 24esima barra, quindi prima delle 9 di domani mattina, sotto questo minimo, noi sapremo, uno, che per ora c'è spocca spinta a rialzo e quindi qui potremmo già avere chiuso il mensile inverso, due, che si può continuare a scendere, perché abbiamo già un settimanale che è vero che ha fatto i massimi nella sua seconda parte, però sta precipitando in questo momento o riprende rapidamente quota, sale sopra la media mobile a 50 periodi, evita il Death Cross e ci riprendiamo, oppure si continuerà a scendere e da qua sarà partito il mensile di inverso, un nuovo mensile di inverso, con tutti i crismi per la chiusura precedente. A questo punto, quale swing abbiamo violato scendendo da questo massimo? Vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro tante riflessioni, per me sarà una splendida giornata perché siamo di nuovo andati in gain sugli indici e su Bitcoin. Shot magnifico. Buona serata a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video se vi interessa fare trading in maniera professionale con un metodo statistico-matematico non discrezionale e poi ovviamente controllate sempre qual è il vostro obiettivo. Vi bastano i video gratuiti? A posto, già migliorate sensibilmente il vostro trading magari. Non vi bastano? Volete fare il passo successivo? Chiedete informazioni sempre, come al solito, sotto qualsiasi video, o quasi qualsiasi video faccio, qualsiasi video di Dax e Mib, trovate sempre delle stelline e trovate dove chiedere anche le dispense gratuite, sono ancora quelle vecchie, e dove iscrivervi al gruppo premium. A voi la scelta, perché questo è un canale differente. Qui vi parla un trader e una lista quantitativo dei mercati, non vi parla un venditore di fuffa. A ognuno la sua libera scelta. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia sarà sicuramente perché ho finito, non piove per adesso, e quindi posso mollare l'ufficio. Aiuto! Sì, volevo farvi vedere solo che non è uno screensaver o altre cose, sono proprio in un ufficio in centro Torino e lavoro qui da tanto tempo, anche se adesso ho anche un altro ufficio. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Ognuno le sue decisioni, secondo i suoi obiettivi. Arrivederci!